Sondaggio di mercato del comune di Bolzano che ha deciso di effettuare un'indagine per verificare l'effettivo interesse da parte dei cittadini ad acquisire in concessione box auto per residenti presso il garage interrato che sorgerà sotto piazza Vittoria. L'indagine non è in alcun modo vincolante e per partecipare i privati o società in possesso dei requisiti possono utilizzare un modello reperibile sul sito del comune compilandolo e depositandolo non oltre il 16 giugno prossimo. Annuale assemblea provinciale oggi per l'Ago, il sindacato degli enti locali in Alto Adige nella sala di rappresentanza del comune di Bolzano sono intervenuti i delegati mentre al tavolo dei relatori quale ospite d'onore si è seduto l'europarlamentare della Sutroler Volkspartei Herbert Dorfman. Al centro dei lavori delle problematiche degli enti pubblici anche in provincia di Bolzano il titolo del congresso è stato eloquente. Nessun futuro per la pubblica amministrazione in Alto Adige? Per l'undicesima volta si è tenuto oggi a Palazzo Wittmann a Bolzano il concorso giovanile di retorica riservato agli studenti delle classi quarta e quinta delle scuole superiori in lingua tedesca. I partecipanti si sono esibiti davanti a una giuria di esperti parlando di tematiche loro comunicate poco prima. I migliori saranno ammessi alle finali del concorso nazionale che si tiene in Austria.